Non è la prima volta che svolgo uno stage, l'anno scorso ho svolto uno stage all'hotel Posanta Palau e uno a Capoboy, mentre quest'anno ho svolto uno stage all'hotel Parco Torrechia. L'anno scorso e anche quest'anno sono stata alla reception. Una brava receptionist secondo me dovrebbe essere serena, tranquilla, socievole, avere a che fare con il pubblico di conseguenza simpatica e saper adattarsi alle situazioni e alle richieste dei clienti. Non ci sono state richieste particolarmente buffe, ma dei clienti comunque richiedevano degli extra per il loro soggiorno. Magari aggiungere un letto in più per i loro bimbi, anziché avere la culla, oppure magari quando avevano la mezza pensione richiedere il pasto in più. Andrò all'hotel Garden Club Toscana e mi aspetto di arricchire le mie conoscenze, soprattutto linguistiche, e di socializzare con i clienti. Da grande mi piacerebbe lavorare alla reception e la mia aspirazione massima sarebbe diventare capo ricevimento. Un capo ricevimento comunque gestisce le situazioni, cerca di soddisfare i clienti, segue le receptionist e dirige il lavoro. Da grande vorrei andare a vivere in Spagna oppure mi piacerebbe anche andare a lavorare in Sud America, vorrei andare in Brasile. Spero che il mio futuro sia soddisfacente, ricco di occasioni e ricco di opportunità. Grazie a tutti.